Brindisi vuole continuare a festeggiare, c'è entusiasmo in città dopo la vittoria contro la Cavese nello spargio promozione che ha permesso a Brindisi di tornare dai professionisti e di festeggiare la C Unica, la terza serie che mancava nella città adriatica da 33 anni. L'euforia in città è percepibile in ogni angolo di strada e c'è voglia di riabbacciare la squadra e l'occasione sarà mercoledì pomeriggio alle ore 16 quando Alfanuzzi sarà ospite il Catania per la prima sfida del triangolare della Pullo Scudetto, il torneo tra le nove vincitrici dei gironi di serie D. Una sfida quella contro la formazione catanese che rappresenta anche un passato glorioso per la formazione brindisina, infatti dal dopoguerra fino ai giorni d'oggi il Brindisi ha incontrato il Catania 17 volte, tutte le volte nel calcio professionistico. L'ultima nel 2003 per la Coppa Italia di serie A e serie B. Il Brindisi pareggiò per 1 a 1 con il Catania con la rete siglata per la formazione brindisina da Mino Francioso. Poi il precedente, proprio negli anni 90, proprio quella stagione 89-90 quando il Brindisi lasciò quella terza serie, proprio 33 anni quando il Brindisi lasciava quella categoria riconquistata domenica scorsa dalla formazione bianca-azzurra. Sarà anche l'occasione per la premiazione da parte della Lega di Lettanti alla squadra adriatica, un momento di festa con la città che vuole continuare a vivere questo momento di entusiasmo. Dal fronte invece calcio giocato, qualche problema di formazione per mister Danucci che probabilmente effettuerà anche un turnover per dare anche opportunità di rifiatare a chi ha speso tanto in questa ultima parte di stagione. Qualche problema fisico invece per Gorzeleski, un problema all'abbraccio che lo dovrebbe portare al forfait della partita.